Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Ragazzi, questo è il video definitivo che vi permette di poter sbloccare il fondo creatore. Io precedentemente già vi ho fatto un video, vi avevo proposto la soluzione, che era quella di contattare, questo è il mio video che ho pubblicato su YouTube, vi invito a rivederlo nel caso in cui per la prima volta riscontrate errore tecnico nel momento in cui provate ad accedere al fondo creator, quindi seguite questa guida. Nella prima guida io vi ho consigliato di, è lo screenshot dell'errore tecnico, ok, allegarlo al feedback che dovete inviare all'assistenza clienti e descrivere il problema. Ho consigliato anche di provare a cambiare dispositivo. Ora, nel caso in cui, e penso che purtroppo in molti, nemmeno con questo metodo qui, siete riusciti a risolvere il problema, ora vi do la soluzione definitiva per poter sbloccare, per poter accedere al fondo creator. Vi invito comunque a guardarvi il video che ho pubblicato su YouTube, dove vi descrive, insomma, che poi è semplice, come inviare il feedback all'assistenza clienti, ok. Ora, quello che vi resta da fare, io adesso sono sul desktop ed è quello che dovete fare anche voi, ma anche dal telefono è lo stesso. Io vi lascerò il link in descrizione per accedere direttamente all'assistenza clienti TikTok attraverso il desktop, ragazzi, guardate bene, desktop no applicazione, quindi dovete uscire dall'applicazione e vi lascerò il link diretto. Fatela anche attraverso il desktop, che è questo qui, condividi il tuo feedback. Ora, seguite questi passaggi. Qui dovete scrivere le informazioni corrette. Indirizzo email, indirizzo email del vostro account TikTok e non uno a caso. Poi, qua dice che è facoltativo, ma comunque vi consiglio di inserire il nome utente dell'account TikTok. Ragazzi, scrivetelo. Argomento, qui come vedete, ragazzi, abbiamo diversi argomenti per descrivere il problema. Quello che dovete inserire è fondo TikTok per creator. Perfetto. In basso, raccontaci di più. Quindi dobbiamo inserire un'ulteriore voce. Qui ne abbiamo diversi, però quella relativa al fondo creator è questa qui. Problema di autenticazione. Perfetto. Qui descrivete il problema. Io vi consiglio in inglese. Se non sapete l'inglese, basta andare su Google Translate e fate il copia e incolla. Insomma, scrivete in inglese. Descrivete il problema. Quindi scrivete in inglese. Se non conoscete la lingua inglese, andate su Google Translate e il gioco è fatto. E basta scrivere poche parole che nel momento in cui provate ad accedere al fondo creator, vi compare questo errore tecnico. E poi scrivete anche che avete allegato lo screen dell'errore che vi compare. Quindi qua caricate lo screenshot. Ragazzi, è fondamentale. Se non lo caricate, lo screenshot dell'errore non serve a niente. Poi qui è importante confermare quanto dichiarato e spuntate. Qui mettete la spunta e inviate. Ragazzi, con questo, questa è l'ultima soluzione che vi do perché è quella, ragazzi, che vi risolve al 99% il problema. Fortunatamente sono riuscito a sbloccare molti fondi creator di amici, insomma, di persone che mi conoscevano e che mi chiedevano come fare. Con questo ulteriore step, che è quello di contattare l'assistenza attraverso il desktop, hanno risolto il problema. Scrivetemi nel caso in cui l'avete risolto. Mi fa piacere. Come sempre, ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale. Lasciatemi un like se il video ti è stato utile. Ciao.